Buona giornata, buona giornata e ben ritornati negli studi di Teleradio Pace, questa è la seconda edizione del Tg Rassegna Stampa di oggi 23 di giugno, siamo quindi arrivati anche alla fine di questa terza settimana e mezza di giugno e abbiamo ancora da vivere l'ultima settimana feriale insieme e poi andremo nel mese più caldo, forse il mese di luglio e quindi di caldo ne stiamo già sentendo abbastanza in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Intanto saluto in regia Manuel Botto che cura la parte tecnica e che tra l'altro non è arrivato adesso perché è già attivo dalle tre di questa mattina perché da oggi Teleradio Pace per tutta la durata della novena in preparazione alla festa patronale di nostra signora di Montallegro, come sapete manda in onda la messa dell'alba, quella che viene celebrata al santuario proprio nelle prime luci dell'alba. Ne parleremo tra poco con Emanuela Castello in redazione che intanto saluto e ringrazio e andiamo a vedere quali sono i santi ricordati e festeggiati in questa giornata. Oggi la chiesa ricorda e festeggia in particolare San Danfranco Beccari, vescovo di Pavia, nato nei primi decenni del XII secolo e consacrato vescovo della sua città da Papa Alessandro III. E poi San Giuseppe Caffasso, sacerdote, Sante Teldreda di Eli, Beata Maria di Oigno e poi ancora Santa Agrippina e Vergine Martire, San Bilio Bilio, vescovo e martire, i Santi Martiri di Nicomedia e poi Beato Pietro Giacomo da Pesaro, Beata Raffaella Santina Cimatti, San Tommaso Garnè, martire in Inghilterra e San Valero, sacerdote. Auguri quindi a tutti coloro che oggi ricordano e festeggiano il loro santo patrono o che in questa giornata invece festeggiano un anniversario, una lieta ricorrenza oppure che compiono gli anni. In questo 23 di giugno, nottata calda, molto calda, però diciamo che siamo ritornati alla normalità. Possiamo dire che ieri avevamo temperature caldissime sulle vette, parliamo di 1500 metri, a quest'ora avevamo già quasi 20 gradi al Prato della Cipolla, 20 gradi, lo ricorderete, alle casermette del Penna. Dovete ricordarvi queste cose che io vi dico ogni giorno, anzi prendete appunti perché fa bene e appunto oggi invece vediamo che la situazione si è ribaltata nella normalità, cioè è più caldo nelle zone più basse della Val Davido, per esempio a Cabanna in questo momento ci sono 20 gradi e 2 e siamo a 800 metri di altitudine, ai 1500 metri di Prato della Cipolla non c'è freddo ma ci sono 13 gradi e 7, che comunque è una temperatura, non dico normale, però un pochino al di sopra, potrebbe essere 9, 8, 9 gradi. Quindi siamo sui 4 gradi in più, ma ieri avevamo invece a quest'ora una temperatura di 20 gradi, quello sì che era molto strano. Perché? Perché è arrivata quest'area africana, proprio direttamente dal Sahara, che ci ha tenuto compagnia tre giorni praticamente, e che oggi ci ha abbandonato. Non ce ne rendiamo ancora conto qua sulla costa, perché comunque sarà ancora una giornata molto calda, perché molto umida soprattutto, però di un paio di gradi caleremo anche qua sulla costa. In realtà già stiamo calando un pochino, ma è chiaro, vedete la situazione, c'è una foschia che definirei anche una nebbia quasi sul mare, c'è nuvolosità bassa, contro appunto, vedete il promontorio di Sestri Levante, il Monte San Giacomo, eccetera, perché c'è una situazione di stallo di aria, e appunto di aria che però è più umida, in quanto sta passando a nord della nostra regione una perturbazione, che sta portando aria instabile, qualche precipitazione sull'arco alpino, ma non dovrebbe colpire particolarmente la Liguria. Io, l'ho detto già nella prima edizione, mi sono beccato un paio di gocce di pioggia venendo qua, che tutto sommato mi hanno anche fatto piacere, perché la notte è stata calda, quindi un pochino di refrigerio, ma nulla di che, insomma, erano proprio dei pioviggini, non era neanche della pioggia vera e propria, non ha bagnato forse nemmeno l'asfalto, però è segno del fatto che un po' di instabilità sui nostri cieli in questo momento c'è. Non abbastanza da provocare delle precipitazioni serie, però un pochino di instabilità, oggi la vivremo. Anche negli entroterra nel pomeriggio ci saranno delle precipitazioni, dei temporali, ritornerà quindi questa instabilità pomeridiana, ma per poi garantirci un fine settimana buono, perché nel weekend, soprattutto nei due giorni centrali del fine settimana, cioè appunto domani, sabato e domenica, avremo tempo buono, soleggiato, caldo, caldo, non freddo, caldo assolutamente, ma meno caldo di questi ultimi due giorni e soprattutto avremo meno umidità, quindi meno afa e una sensazione quindi migliore e soprattutto due notti, quella di domani e di dopodomani, molto più fresche, meno calde di queste ultime due che abbiamo vissuto. Chiudo qua con la meteo? No, diamo le minime, vabbè, diamo le minime perché sennò poi mi redarguiscono. Allora, 13,3 gradi al Prato della Cipolla, 13,4 gradi a Rocca d'Aveto e 14,6 gradi al Casermetta del Penna. Abbiamo detto 13,6 gradi anche a Rezzo Aglio Basso e 13,6 a Cabanne di Rezzo Aglio. Poi scendendo 18,7 gradi a Belpiano e 19,6 gradi a San Sirofoce, 19,6 a Pontori di Ne, 18,7 a Fabale di Marlboro. Non sono temperature altissime queste, però comunque sono temperature che magari un grado, due, un grado e mezzo più alte della media. 19,7 gradi a Pian dei Preti di Tribogna, 18,9 a Pezzo Nasca, ecco questa è un po' alta, qua dovrebbe esserci forse un 15 gradi. Poi Villa Oneto, San Colombano abbiamo 20,1 gradi, poi 23 gradi a Santa Margherita Ligure, sul Lungomare di Rapallo 23,7, su Chiavari 22,6 gradi, 21,7 al Porto di Lavagna e 23,7 a Moniglia. Cioè i gradi sono quelli di ieri, però è aumentata l'umidità, quindi la notte è stata comunque più calda, cioè la sensazione che aveva avuto è di maggiore calore. Perché in realtà le temperature sono rimaste più o meno quelle della notte precedente. 23,6 gradi a Genova Nervi, poi a Ruta di Camogli 21,2 gradi, a Genova nel centro, a Marassi abbiamo avuto una temperatura di 22,9 gradi, adesso ce ne sono già 25,5, quindi fa già caldo parecchio, a Marassi, stiamo parlando del centro di Genova, poi a Genova Pra 22,9 gradi, a Savona 23,4 gradi, ad Imperia abbiamo avuto 20,5 gradi, 21,2 gradi a 20 miglia e nell'estremo Levante, alla Spezia, 23 gradi. Adesso andiamo a vedere le prime pagine quotidiane, se no non ci muoviamo più dal meteo. Allora, ecco qua, la prima pagina di avvenire. Lavoratori in saldo, se lunga accusata di sfruttare la mano d'opera di false cooperative e di una frode fiscale. Oggi direi che avvenire è l'unica che mette così in evidenza, forse perché non ha pubblicità di essere lunga, non lo so. Sequestro preventivo da 48 milioni, altra inchiesta, vigilante sversati e pagati 5 euro l'ora. La procura di Milano indaga il gruppo e due dirigenti, la società assicura di aver agito nella legalità. E' l'unico quotidiano che apre con questo argomento. Contrastare gli abusi con legge e vigilanza è il commento di Francesco Riccardi. E poi c'è una immagine di una chiesa distrutta, è una delle tante chiese presi di mira da attentati in tutto il mondo perché, pensate, la libertà religiosa non è sempre più tollerata, è sempre più violata. Colpito il 62% della popolazione, questo è il rapporto dell'aiuto alla chiesa che soffre. Poi messe contrasti mandano il governo in fibrillazione. Sant'Anché è stata accusata, per il momento soltanto da Report, adesso vedremo se diventerà un'inchiesta giudiziaria, accusata di fallimenti sospetti, chieste anche le dimissioni. Corruzione, truffa sulle mascherine, questa invece è un'inchiesta della magistratura. Arrestati Pini e Minenna, ex delle dogane e un po' in area leghista. E poi Fatima, suor Lucia, sarà venerabile, 20 martiri nuovi beati. Poi la veglia dei veri immigranti, il cardinale Zuppi ricorda l'accoglienza sia legale e sicura. Maturità tra Anastasia e alla abbraccio di popoli. E poi abbiamo due editoriali anche sulla sciagura del sommergibile che doveva andare a perlustrare il relitto del Titanic, due tragedie negli abissi e un contrasto che ci strazia. Cioè è stata data più attenzione a queste cinque vittime a 3.800 metri di profondità che un po' non diciamo che sapevano della rischiosità di questa situazione e l'hanno scelta in piena libertà. Cosa che invece magari i migranti non fanno, non sanno forse nemmeno della pericolosità e poi diciamo che molti di loro sono anche un po' costretti a migrare. Sono delle due sciagure marine che hanno contrastato, che hanno contrassegnato questo ultimo periodo e che contrastano tra di loro anche per l'attenzione dei media molto più solleciti sulla vicenda del Titanic sul naufragio a largo della Grecia, nel conflitto tra Caritas e Tribù, il naufragio dell'Europa di Luca Maria Scarantino. Questo è il secondo editoriale di oggi. Rimaniamo in ambito cattolico con il settimanale Il cittadino di Genova, 600 negli abissi, la più grande tragedia nel Mediterraneo, barcone affondato davanti alle coste della Grecia, centinaia di bambini annegati, il silenzio degli innocenti e dei colpevoli. Andando oltre, Cattedrale a Nuovo Splendore, mercoledì 21 giugno è stata inaugurata la facciata della Cattedrale San Lorenzo, oggi tanti servizi sul cittadino, addirittura quattro pagine dedicate a questo evento. E poi Ettore Vernazza al Via il 27 giugno, l'anno giubilare nel centenario della morte del servo di Dio Ettore Vernazza. E ancora onore al patrono, domani è San Giovanni Battista, domani grande festa a Genova, Genova con la festa patronale e naturalmente la celebrazione alle 10.30 in Cattedrale a San Lorenzo con il canto dell'ora media e a seguire la Santa Messa Pontificale presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Marco Tasca. E poi alle 17.30 la processione verso il Porto Antico con l'Arca delle Ceneri del Battista. Sempre a Genova ma sul secolo XIX, andiamo a leggere la prima pagina, la Liguria punta sul gas, si ha un nuovo rigassificatore, Totti è stato nominato commissario del governo, benefici per tutto il territorio, il secondo impianto dopo quello di Pinigaglia potrebbe essere una nave che oggi è aromeggiata a Piombino e che sarà collocata in mare aperto a Genova o a Vado, quindi o davanti al porto di Genova o davanti al porto di Savona, praticamente di Savona Vado. Il metano a meno 162 gradi torna nelle condutture con il calore del mare, è la scheda tecnica per spiegare che cos'è un rigassificatore. E poi di Stefano Rapallo sul cuneo fiscale lo taglio da 16 miliardi, i giovani industriali tra poco li vedremo, Renzo Piano un referendum sulla sopraelevata, l'architetto dice la mia proposta è di demolire solo il tratto a Levante, quindi verso la ex Fiera di Genova, o quella che sarà la Fiera di Genova, non lo so, ma è utile il coinvolgimento dei genovesi, cioè vuole indire un referendum. E allora c'è la mia proposta, non solo i genovesi ma tutti i cittadini dell'area metropolitana, quindi anche noi, insomma tutti dobbiamo decidere tutti, perché Genova è un po' di tutti noi. Poi spaccature sul MES, il governo sceglie di disertare l'aula, e ancora a Buffera Santanchè cresce il pressing per le dimissioni dopo il servizio di report su alcune sue società che sarebbero state fatte fallire ad hoc, diciamo così. Vabbè, arrestato Minenna per il rebus delle mascherine, e poi ancora il sottomarino imploso vicino al Titanic, che è la tragedia negli abissi a 3.800 metri di profondità, l'eterna sfida al fato degli uomini. E poi il 9 in condotta, uno schiafo per l'insegnante, e insomma sì, oggi sui giornali ci sono alcune notizie di persone che hanno, di studenti che hanno bullizzato non i compagni ma addirittura i professori, addirittura tirandogli degli schiaffi o tirando dei pallini con delle pistoline, insomma, e queste persone, questi studenti hanno avuto il 9 di condotta, comunque è così, anche questa è la scuola italiana. Poi Genova cresce la febbre per la Ocean Race, la regata, il villaggio, gli eventi in città, gratis con il secolo XIX, un inserto di ben 16 pagine su questa manifestazione. Allora adesso andiamo a vedere, appunto a parlare di Rapallo, perché sapete che da oggi appunto scatta il convegno dei giovani imprenditori, dei giovani di Confindustria, allora andiamo appunto sulle pagine del secolo, nelle pagine del Levante, meeting giovani industriali, big della politica, all'Excelsior Palace di Rapallo, ormai da qualche anno appunto questa manifestazione si è spostata da Santa Margherita, dall'hotel Miramare, che era un hotel Miramare che non era più sufficiente per ospitare l'evento, perché un po' si è ingrandito, appunto all'hotel Excelsior che ha capienza maggiore. Anche tanti manager di aziende nel carnet degli interventi in programma oggi, però sicuramente i più attesi sono il ministro Fitto, che parlerà sicuramente di PNRR, l'ex presidente del Consiglio attuale, presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, che ha la sua seconda volta nel Tiguglio, perché l'avevamo già vista durante la campagna elettorale a Sestri-Levante. Il tema del convegno di questa edizione è Nuova Frontiera direzione 5.0, vediamo un servizio di presentazione realizzato di ieri dalla nostra redazione. Si parlerà ovviamente di economia al convegno dei giovani di Confindustria in programma Rapallo. Il taglio di quest'anno è sulle cosiddette nuove sfide per l'azienda a causa della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze a livello macroeconomico. Si chiama Nuova Frontiera, con un forte focus sul mondo della fabbrica 5.0, che la novità del 5.0 è proprio questo, rispetto anche a tematiche verso la sostenibilità ambientale e sociale di governance, e quindi tratteremo questi macro temi cercando di calarli in quello che è un contesto di politiche industriali ormai mondiale in forte cambiamento dopo quei due anni che abbiamo passato tra pandemia, guerre, crisi energetica. Come di consueto sono invitati diversi esponenti della politica nazionale. Sul sito giovaniimprenditori.org sono annunciati i ministri Matteo Salvini, Raffaele Fitto, Gilberto Picchetto Fratin e Adolfo Urso. Per l'opposizione, invece, la segretaria del Partito Democratico Alice Line, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la presidente di azione Mara Carfagna. Attesi poi dei rappresentanti del mondo industriale. È previsto un centinaio di partecipanti, gli incontri sono in programma venerdì e la mattina di sabato all'hotel Excelsior di Rapallo. Come mai è sempre a Rapallo questo appuntamento? Quest'anno è la 52esima edizione, nasce qua a Rapallo, poi abbiamo avuto una piccola parentesi a Santa Margherita. È tornata a Rapallo negli anni dopo che c'era stata l'alluvione, e quindi siamo molto contenti di essere qua, perché siamo tornati a casa del nostro convegno, e quindi la volontà è quella di continuare questa tradizione. Allora, rimaniamo sulla prima pagina, cioè sulla pagina che abbiamo appena letto appunto del secolo XIX, dove si parla appunto di questo convegno al Via questa mattina dei giovani industriali, perché a fianco c'è una notizia che insomma ci fa anche molto piacere. Telepace sul canale Sky, unica tv in Liguria, beh insomma mi fa un po' ridere l'idea di uno che fa Sky, di fare l'abbonamento Sky e poi si vede Revello, cioè è una cosa molto piacevole. Però a parte gli scherzi, Telepace sbarca sulla piattaforma Sky e appunto Telepace non cambia, si trasforma, nata nel 90, ormai 33 anni fa, e adesso con grandi sfide tecnologiche, l'ultima della quale appunto a prodare sulla piattaforma Sky e sarà al canale 858, siamo insomma abbastanza bassi, 858 poi è un numero che si ricorda facilmente. Andiamo invece al centro latte Tigulio, che lancia la bevanda fermentata Kefir e l'equilibra all'organismo, un po' di pubblicità non guasta, andiamo ancora avanti e leggiamo appunto invece sulla maturità. Ieri è andata in scena la seconda prova scritta per 537.000 più o meno studenti italiani impegnati appunto nella maturità quest'anno, naturalmente il secolo ci parla nelle pagine del Levante di quelli del nostro territorio, maturità alle spalle, seconda prova ok, studenti soddisfatti ora sotto con l'orale. Io devo dire invece la verità che se ho avuto un po' di emozione ce l'ho avuta all'orale, cioè gli due iscritti tutto sommato si fanno vabbè, ma l'orale è quello che ti dà la maggiore adrenalina, diciamo così, quindi non è vero che la maturità è alle spalle, perché è l'orale in cui si gioca un po' tutto. Superato senza troppi patemi anche il compito di indirizzo, weekend di riposo, la prossima settimana il via al colloqui che naturalmente saranno scanditi dalle lettere dell'alfabeto a seconda dei sorteggi, quindi ogni scuola ha fatto i suoi sorteggi ogni commissione e quindi poi i ragazzi sanno già quando saranno interrogati da qui più o meno ai primi dieci giorni di luglio. Vediamo alcuni intervistati ieri dalla giornalista Raussel Galeotti del secolo XIX. Olexandria è l'Ucraina, ho un peso nel cuore, il racconto di una giovane maturanda che arriva proprio dalla terra martoriata appunto da Kiev, nata a Sumi, in realtà farà l'estetista, vuole fare l'estetista nella sua vita. Allora andiamo ancora oltre e andiamo a trovare le mascotte. Le mascotte scelte per i parchi fanno storcere il naso in Val Daveto. La regione indica la mucca cabannina autotona di Rezzoaglio come simbolo dell'antola e per testimonia il parco rivierasco indicati i cavalli selvaggi, croce edilizia degli abitanti. Quindi le mucche cabannine vanno bene, i cavalli un po' meno. L'assessore Piana abbiamo puntato sul fatto emozionale da problema a risorsa perché comunque i cavalli, come si è detto spesso, possono diventare una fonte di attrazione. Certamente, però, chiaramente, devono vivere con, insomma, un po' diciamo, nel contesto della valle e anche dei suoi abitanti provando a vivere una simbiosi. Parliamo di una notizia un po' particolare. Le parrocchie dell'Aveto potrebbero essere incluse nella diocesi di Chiavere. Adesso è un discorso ancora molto in embrione. Incontro a Rezzoaglio lascerebbero la chiesa di Piacenza-Brescia e, scusate, Piacenza-Bobbio, Piacenza-Brescia è un'autostrada, c'è tra niente. Dicevo appunto, lascerebbero la chiesa di Piacenza-Bobbio e c'è stato proprio un incontro tra alcuni fedeli, anche alcuni sacerdoti della zona e il Vescovo di Piacenza. Però questa idea è un po' di anni che appunto circola negli ambienti. Il Vescovo di Piacenza, Adriano Cevelotti, accompagnato dal vicario Basini, ha detto siamo in una fase di ascolto, nulla è ancora stato deciso, i tempi per questi procedimenti sono in genere piuttosto lunghi e già il Vescovo precedente aveva parlato di un passaggio della Val d'Abeto dalla Diocesi di Piacenza a quella di Chiavari. Questo chiaramente è un discorso che si dovrà vedere, appunto all'atto non c'è stata alcuna richiesta ufficiale e si sono comunque si sono avviati dei colloqui. Allora rimaniamo invece, ritorniamo proprio nella nostra Diocesi di Chiavari perché come abbiamo detto in apertura, da questa mattina a Telepace trasmette in diretta per tutte le mattine da qua al 2 di luglio la Santa Messa dell'Alba della Novena di Nostra Signora di Montallegro. Iniziano quindi appunto i riti di preparazione alle feste patronali sia a Chiavari che a Rapallo e di questo ci parla adesso Emanuela Castello che vedo prontissima in redazione. Ciao Emanuela, buongiorno. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Sì, sì, come dicevi tu sono giorni molto attesi nel territorio della Diocesi di Chiavari ed in particolare da questa mattina tante persone, decine e centinaia quasi tutti i giorni raggiungono il Santuario Mariano di Montallegro per l'inizio della Novena dell'Alba in preparazione alla memoria dell'apparizione di Maria sul monte che sovrasta Rapallo. Il filo conduttore delle riflessioni che saranno condotte ogni giorno nelle celebrazioni che come dicevi appunto ogni mattina Telepace propone in diretta a partire dalle 4.20 saranno i dettagli relativi al quadretto all'icona della Dormizio Virginis che è custodita nel Santuario Mariano sopra Rapallo e ad iniziare questo percorso di riflessione stamane è stato il Vescovo Giampio De Vasini allora grazie a Manuel Botto adesso vi proponiamo un breve stralcio della riflessione che Monsignor De Vasini ha pronunciato questa mattina a Montallegro che Dio ci narra ci racconta ci spiega Gesù primo un Dio che è amore anzi comunione d'amore di tre persone secondo un Dio che ha desiderio di noi nostalgia di noi che non sa immaginarsi senza di noi e ci vuole liberi e felici terzo un Dio che non escude mai nessuno dal suo amore dalla sua offerta di salvezza Dio non ci ama perché siamo buoni ma perché lui è l'amore quarto un Dio ricco di misericordia dove misericordia non equivale a buonismo ma ad azione terapeutica che parte dal riconoscimento della propria mancanza un riconoscimento che può scaturire soltanto da una costante frequentazione della parola di Dio per giungere con l'aiuto di Dio alla guarigione quinto un Dio che non chiede offerte ma si offre che non chiede doni ma si dona sesto un Dio che si relaziona con noi non come a dei servi ma come a dei figli figli di uno stesso padre e quindi fratelli emerge perciò una nuova immagine di credente e allora questo era un passaggio una breve sintesi della riflessione tenuta dal vescovo Giampio De Vasini questa mattina all'inizio della novena dell'alba a Montallegro ma quale sarà il filo conduttore delle riflessioni che verranno proposte dai vari sacerdoti che presiederanno la liturgia in queste giornate di riflessione di preghiere di attesa lo abbiamo chiesto al rettore del santuario Mariano di Montallegro Gianluca ha trovato e vi proponiamo questo suo intervento poi la linea torna allo studio è un momento che la gente di Rapallo attende con trepidazione li coinvolge dentro una esperienza che resta sempre importante cioè quella di svegliarsi nel cuore della notte per nove mattinate perché occorre salire a piedi al santuario per l'antica strada della Madonna l'antica mulattiera intorno alle ore sei quando la celebrazione è finita la gente ritorna a casa sempre per l'antica strada della Madonna la mulattiera e comincia la giornata lavorativa è una novena impegnativa ma nello stesso tempo rende il cuore lieto perché altrimenti non si spiegherebbe come le persone ancora oggi scelgano di partecipare di farla di farla numerosa guarderemo la Madonna la guarderemo nel suo essere distesa sul letto funebre guarderemo gli occhi della Madonna e vedremo che dall'occhio della Madonna esce una lacrima guarderemo gli occhi degli apostoli e ci accorgeremo che qualche d'uno guarda la Madonna qualche d'uno guarda la Santissima Trinità che compare accanto alla Madonna e qualche d'uno guarda noi appunto guarderemo la Santissima Trinità che è la grande protagonista dell'icona della Dormizio Virginis cercheremo di capire che differenza c'è fra l'assunzione di Maria al cielo e il transito della Beata Vergine Maria oppure Dormizio oppure se lo stesso mistero guardato con il polmone occidentale con il polmone orientale della Chiesa guarderemo i colori sono tanti quelli che compongono l'icona guarderemo un gesto liturgico che accade nell'icona un turibolo che fuma e fa andare in alto il profumo appunto dell'incenso guarderemo tutti questi particolari guarderemo il cuore stesso della Trinità e troveremo nel cuore della Trinità il volto stesso di Maria che brilla della luce stessa di Dio capiremo che in quel cuore c'è posto per Maria in quel cuore c'è posto per ciascuno di noi riprendiamo la lettura dei quotidiani ringraziando Emanuela Castello per questi due contributi così importanti e andiamo a Sestri Levante giù la Saracinesca dopo 47 anni chiude la cortoleria Belle Artidea la bottega di Viale Mazzini aperta nel 76 da Giovanna Lavezzo che vediamo in questa foto ho imparato il lavoro di una volta e poi ripristino del murale messa in sicurezza davanti San Michele a Casarza Ligure interventi di ripristino giornata del rifugiato questa sera l'incontro al Y Lab con la scuola del fumetto e la lezione da Costantini e ancora in breve Casarza Ligure raduno di auto in via Tangoni domenica dalle 10 e a Sestri Levante al via gli orari estivi degli uffici comunali andiamo ancora avanti minori ed emergenza abitativa lo studio Istat comprende il Tiguglio Sestri Levante centro con più casi seguono Chiavari e Rapallo numeri limitati ma c'è il sommerso i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica rielaborati dalla fondazione Open Police e la ricerca realizzata è la prima del genere che comprende minori in situazioni difficili Spock sociosanitari il primo dell'Asl4 nella palestra del borgo di Portofino nei locali di Piazza della Libertà ambulatori e servizi di telemedicina e poi ancora barriere in mare antinquinamento e pulizia in spiaggia camogli di provvedimenti del comune dopo il primo grande assalto dei turisti nel fine settimana scorso e poi questa l'abbiamo già letta anche questa anche questa andiamo sul Levante questa vicenda che ha sconvolto e sta sconvolgendo con gravi polemiche e l'episodio ha capitato su una spiaggia una questione normale una persona che passa sposta un asdraio per fare passare un'altra persona e c'è subito il Mugugno il Mugugno che però non è dei Liguri questa volta è di due turisti milanesi andiamo a vedere che cosa succede appunto la frase è questa suo figlio è cieco non può stare qui qui in spiaggia l'affronto in spiaggia ad una mamma due turisti milanesi hanno allontanato la donna dalla battigia dopo che aveva spostato due sdraio ma naturalmente questo episodio non è non è appunto fuggito al giovane non vedente che si è sentito male dopo questa battuta dopo questa così anche molto ignorante appunto esternazione Emanuele è fragile ora è un ragazzo scosso e spaventato le reazioni al fatto accaduto sull'arenina ha dovuto appunto anche andare al pronto soccorso dal male e oggi sulle pagine del secolo il presidente dell'Unione Italiana Cecchi del Tiguglio appunto Nicolò Pagliettini spiega che per una persona che porta a un handicap così grave come la non non vedere è veramente uno shock sentirsi dire una cosa del genere cioè lui non può andare alla spiaggia perché è cieco e tutto il lavoro fatto su se stesso per accettare l'handicap per accettare la disabilità viene praticamente distrutto quindi davvero un bruttissimo episodio che speriamo appunto raccontiamo proprio perché non avvenga più forse dobbiamo essere sensibili anche quando siamo in vacanza anche quando siamo al mare non ci dobbiamo dimenticare di essere delle persone sensibili come magari siamo normalmente per cui dobbiamo includere tutti anche perché il momento delle ferie del fatto di stare su una spiaggia è un momento che deve essere piacevole per tutti Regeni striscione rimosso domani il corteo di protesta a Camogli e poi ancora il comune vuol vedere la mandragola vuol vendere non vedere vuol vendere la mandragola di Paraggi ricavi per un milione e quattrocento mila euro cosa è la mandragola di Paraggi è un locale dove appunto c'è ospitato un ristorante e a breve appunto ci sarà l'evidenza pubblica per vendere questa struttura che si trova diciamo all'interno del posteggio di Paraggi quindi un po' interno però siamo nella splendida Baia tra Santa Margherita e Portofino ed è di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure un patto per il clima e cambiamenti in atto dopo domani al Geranio incontro al vivaio di Viabetti sui temi proprio del cambio di clima nel mondo giochi e gastronomia San Pietro in festa a Chiavari venerdì a San Pier di Canne venerdì 30 ci sarà un appuntamento speciale con la festa ma naturalmente il 29 ci sarà proprio la celebrazione religiosa di San Pietro nella parrocchia appunto di San Pier di Canne ed è il santo patrono di tutto il quartiere poi Zoagli il meglio della piazzetta il libro che racchiude le vecchie pubblicazioni a cura dell'associazione Due Torri di Zoagli siamo pronti per vedere insieme gli appuntamenti di oggi e quindi sfogliamo l'agenda di Telepace Gli appuntamenti di venerdì 23 giugno in piazza della libertà a Lavagna inizia il festival delle tradizioni dalle 8 alle 22 ci saranno bancarelle con prodotti artigianali provenienti da tutta Italia in concomitanza con la festa patronale di San Giovanni a Cicagna c'è la rassegna di arte artigianato artistico dell'associazione culturale Il Piffero nel centro storico frittelle dolci e salate a cura della confraternita di Nostra Signora del Carmine e di Monteghirfo dalle 15 alle 22 si può visitare la mostra d'arte Bettina De Filla a Villa Cavagnari il comune di Drecco organizza un incontro per parlare di raccolta differenziata con il personale dell'ufficio ambiente verde pubblico inizio alle 17 nella sala lavoratori prosegue il quarto festival cinematografico Genova de L'Ordid alle 18 proiezione del film Nostalgia di Mario Martone al cinema Sivori alle 21.30 all'Uomo sulla strada al circuito sul mare gli Sturla alla società economica di Chiavari c'è l'incontro Carlo Casini testimone profeta padre con Marina Casini presidente del movimento per la vita italiano inizio ore 18 a Palazzo Reale di Genova il teatro pubblico Ligure propone lezioni di greco antico per tutti con il greco in tasca inizio ore 19 penotazione obbligatoria al 348 26 24 922 a Cecania c'è la gara podistica la marcia di farò partenza alle 19 dal circolo dello sport dalle 21.30 serata di ballo con l'orchestra Caravelle festa della musica nel borgo di Conscienti nel comune di Ne dalle 21 con DJ massimo 69 dalle 19.30 sono aperti gli stand gastronomici dei ristoratori locali il gruppo giovani della parrocchia di San Giacomo di Tupinaro organizza una cena per finanziare le iscrizioni alla giornata mondiale della gioventù in programma quest'estate a Lisbona alle 19.30 in casa Caritas in via Marana a Chiavari offerta libera a partire da 10 euro per gli adulti 8 euro per i bambini da migranti a cittadini insieme per costruire il futuro è il titolo dell'incontro per la giornata del rifugiato in programma nella sede di Y Lab a Chiavari alle 20.45 ci saranno l'illustratore Gianluca Costantini il coordinatore migranti e rifugiati di Amnesty Federico Lera il coordinatore nazionale nuove generazioni italiane Maali Attila Sarì è il responsabile dell'edizione Levante del secolo XIX Roberto Pettinadoli Ci sarà tempo buono in questo weekend vi faccio perdere poco tempo oggi pomeriggio un po' di instabilità pomeridiana sui rilievi soprattutto del Levante dell'estremo Levante qualche sconfinamento proprio sulle coste spezzine ma nel complesso comunque sarà una giornata ancora calda e ancora soleggiata venti tendenti a disporsi da nord sui valichi e versanti padani deboli da sud e sotto costa mare generalmente mosso le temperature rimangono stazionari rispetto a quelle di ieri leggero calo nelle zone interne le massime comprese tra 27 e 31 gradi domani bella giornata con clima un po' più secco tempo soleggiato innocua nuvolosità venti moderati da nord est in attenuazione nel pomeriggio mare poco mosso temperature nelle aree interne in calo e lungo le cose invece addirittura un po' in aumento per 25 giugno domenica giornata soleggiata a parte nubi che comunque non avranno conseguenza temperature in lieve calo sotto costa stazionarie altrove grazie a Manuel Botto che ha curato la regia Emanuela Castello in redazione e tutti voi che ci avete seguito naturalmente domani torna il TG rassegna stampa però alle ore 8 e 30 in un'unica edizione per le due edizioni quelle delle 7 e 30 e 8 e 10 l'appuntamento è per lunedì e quindi da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata e un buon fine settimana a tutti e quindi da parte di un'ottima giornata e quindi da parte di un'ottima giornata